Liam! Liam! Stai bene! Sì? Ma le cose si mettono male. Molto male. Ti amo! Chris, ascolta. Devi salvare due ostaggi da un pozzo petrolifero su Bacchia. L'agente Sherry Birkin e Jake Moon. E' il figlio di Albert West. West! Chris, ha sviluppato gli anticorpi per il virus C. Ricevuto. Vado subito. Bene, grazie. Leon, aspetta. C'è una cosa che devo dirti. Ada Wong è morto. Ricevuto. Sherry e Jake hanno bisogno di te. Non deludere. Che bella è morta. Tutto ok? Sì! Troviamo i sopravvissuti e andiamocene subito. Che bello, quel tipo si chiama Jack Mueller. Fate l'amore con il sapore. Mueller. Ecco a Fugì, ci sentite? Fugì a Eko, parlate. Ehi! Che diavolo state facendo laggiù? Dobbiamo sgombrare, andiamo! Minchia ragione, andiamo! Abbiamo rilevato tracce di virus C nel gas. Andiamo a cercare gli sfollati sopravvissuti. Aspetta. Stai arrivando il gas. E va bene, andiamo. Lontano dal gas. Vediamo verso la torre qua. Dai, dai, dai. Cioè lì è indietro. Sperate, fuoco! Dei qui! Cazzarolo là. Stai bene? Come va? Una merda. Non vedo che un mare... ...e le cose peggioreranno. Vediamo la torre quadra per assistere gli sfollati. Cristo, pure di qui! Non voglio passaggio, abbiamo un veicolo. Cazzo, muovetevi! Aspetta, la sto aprendo! Sì? Andiamo! Cazzo, muovetevi, muovetevi! Bene, via! Avanti! Ci penso io! Via, via! Dov'è il veicolo? Oh, scusò. Ecco fuori! Per non far ammarsi troppo. Porca troia! No! Via! Presta! E levatevi di mezzo! Elena! L'agri! C'è il veicolo, c'è il veicolo! Non guardatevi indietro! Andate! Poveraccio! Ha fatto l'eroe! Buona fortuna! Bene! Reggetemi! Guidi tu? Solitamente quando si mette lì o qualcun'altro la guida, la macchina va sempre a schiandarsi da qualche altra parte. Forse dal missile. Viene dal missile e basta! UG a Charlie! Cambio programma! L'accesso a TAC è proibito! Ritiratevi e attendete ordini! Cosa? La squadra ECO è ancora lì! Dobbiamo aiutarli! Ritirata! È un ordine! Non possiamo perdere altri uomini! Diabolo! Oh no! Ti circonderanno! Andiamo! Eh ma anche lui è valente come una merda! Più veloce, dai! Non c'è pericolo di investire nessun civile! Sono tutti morti! Madonna quant'è lento! Puoi provarci figliolo! Non si vede niente! Forse è anche per questo che fa lento! Sì ci schiantiamo! Quindi sì vai lento! Non posso andare oltre! La torre è più avanti! Proseguite! Io tornerò a cercare i superstiti della mia squadra! Grazie! Grazie! Beh perlomeno non è morto! Io pensavo che crepasse! Sfadra eco rispondete! C'è nessuno! Continuano a rivolne dalla nebbia! Vabbè se sti cazzo sono fuori su! Andiamo! Se venisse con noi sarebbe meglio! Sto spedendo! Sto spedendo! Sto spedendo! Sto spedendo! Forza! Chi sono io? Aspetta ma questa non è la scena iniziale del gioco! Sì è quella! È la scena iniziale del gioco! E' quella troia! Pensavo che sia morto! Andiamo! Cioè credo! Io mi senti! Stai bene! Sopravviverò! Ma ho la sensazione che le cose peggioreranno! Guarda! Potremmo avere altre munizioni! Pensavo che le armi si potessero modificare! Invece no! Cioè così le prende e così te le tiri! Sì sì! Guardate! Lasciano iniziale del gioco! Però... Fatta in modo diverso! Perché non la stiamo trascinando a lei! Eh vedete! Lui è già trasformato! Eh sicuramente tipo... Oh cacchio! E ce ne è anche più di una! L'hanno fatta sicuramente come tutorial e basta! Io uso la pistola! Eh non va giù! Guarda! Va solo indietro! Lo becco in testa! Ma! Oh è questo? Dove ne è uscito? È continua! Ma cazzo muori! Qui dentro c'è una piantina! Sì! C'è una piantina e come? Eh no! Me la tengo dai! Può servire! Andiamo! Spara! 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 Quanto ho un casino di proiettile! Non mi devo lasciare una granata incendiaria ma... Ormai! Oh cazzo! Ah è vero! Dammi qualcosa! Dammi qualcosa! Niente! Vai a cavare! Adesso scopriamo... Veloce però! Biga! Dovemmo rifare la stessa scena! È terribile! Scopriamo che mostro era quello che avevamo... Abbiamo visto! Dovemmo rifare la stessa scena! Tu mangia tranquillo! Dovrebbe arrivare un tizio a rompere quella cosa! Ma no! Oh sì è arrivato! Arrivano all'improvviso! Uè fammi spazio! Sì lo so! Ha come un senso di déjà vu che dovremmo correre! Via! Vada boom! Stavolta salvati anche tu ti prego No Caga Brucia Ehi in alto o cosa? Forza Dai Oh Oh Beccato Merda Tenersi Nonostante l'abbiamo già fatta due volte Questa scena è sempre figa Grazie Schiacciate gli zombie di sotto Stai bene? Sì Ecco Facciamo il rifornimento E' quello Aspetta Aspetta un ottimo Ci ho ricaricato Devo buttare qualcosa Ah butto di nuovo questa merda Aspetta Facciamo così Ah che non posso buttarlo Ah ecco Sto sbagliando io Ok Così E siamo a posto Tre munizioni per il mitra E vamos alla playa Ecco adesso voglio vedere che cazzo era il mostro Può essere O la sorella di lei O Simmons Quella merda del treno Di fatto che devo essere pronto O c'è il mitra Simons Tornato per il bis? Bravo Sparalo Sì 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 Tu hai portato via il figlio di Wesker! Sato il salve di quel mastardo! E poi... Potenziare... Il virus! Spero tu abbia amici dall'altra parte. Perché qui non mancherai a nessuno. Ma sono sparsi a quello? Non esplodo, ok. Sì. Oh, merda! Ne hai visto di più grandi, vero? Oh, cacchio. Forse è meglio spostarsi. Vabbè, noi abbiamo il supporto. Cazzarola. Ok, lo attiro verso questo barile, è meglio. Impiero. Adesso lo sfondo a calci e pugni. Vuoto! Oh! Perdevo qualche rifornimento. Merda, c'è un barile qui! Peccato! Ma non gli ho fatto un cazzo. Oh, sì! Che è successo? Salite! Bene, sei salto! Più veloce! Vado più veloce che posso! No, cazzo, si è scaldata! Credo. Oh! Sono fermato. Arriva! Pronti! E almeno spara più! Non spara! Sparate su quel lurido bastardo! Aspetta, non riesco a beccarlo! E tutti, è morto. Poveraccio. E' durata poco il viaggio, eh. E' arrabbiato! Concentrati! Lo elimineremo! Dici? Io e i miei dubbi. Eccolo, eccolo! Eccolo, pezzo di merda! Adesso vedi. Cosa... E' impossibile. Che soddisfazione prendere i appugni! Che soddisfazione prendere i appugni! Sì, ma anche se tu sei stupido! Che ti tiene vicino! Ciao, stronzo! Dai, vai giù! Quante volte dovrò fare questo giochetto? Oh, cazzo! Oh, c'è una metriatrice qua sopra. Non ci posso salire. Sì! Sono proprio qui, Simmons! Ma questo merdoso non esplode! Dai, dai, dai! E' il momento! Aspetta! No! Minchia! Fa schifo questa cosa! Ah! No, via! Cioè, ha distrutto qualcosa! Pensavo esplodesse! Cioè, c'è l'occhio in bella vista! Sta andando sul tetto! Spero che l'ascensore funzioni ancora! Ah, lo spero anch'io! Qualcosa non va? No, niente! Andiamo! Non è solo un'amica! Non è così! È una scopa, amica! Ma poi si sta esplodendo tutto e noi siamo gli ascensori! Che furbizia! Ecco! Dicevamo? E adesso come cazzo ci arrampichiamo? Come Spider-Man ci attacchiamo all'edificio e saliamo verso su? Forse sì! Però usando la corda! Ti consiglio di non guardare giù! Non ci penso neanche! Speriamo che non succeda di nuovo! Cioè, tutti gli ascensori stanno cadendo, eh! Oh no! È ancora lì! Sta combattendo con Ada! Avrebbe fatto bene a tenere l'elicottero! A presto! Ha! Anna! È su! Presto! Proteggi Ada! Basta arrampicarsi! È la tua fine Silmo! oh cazzo sono pure zombie proteggi auto ma a distanza così non posso fare un cacchio ho buttato giù sfonda la calci continua a cadere zombie dall'alto merda davvero via adesso impieghiamo un casino a salire in più se cadono cose ci rallentano dai dobbiamo raggiungere il posto sicuro fai più veloce non riesce a sentirmi spara di ora mancato cazzo possiamo aver s'ucciso che rompicoglioni quando cazzo quando cazzo muore fuori dalle palle vede il segno a ombrella là sotto ha colpito a lei sono un pirla ada mi senti non deve finire così certo che può finire così andiamo via amata staremo insieme per sempre non lo permetterò bari weekend non lo permetterò sono un pocco Oh Cristo Certo M'ho beccato in pieno Ma è più farci volato Ma porca merda mi becca sempre Dai ma che cazzo Oh Cristo Attacca lui Oh il cribbio Adesso vedi Adesso vedi il pezzo di merda No volevo piccarlo io E' una figata però l'ha scivolato Nononononono spara 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 al culo Ho 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 Tiens 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 ciao bello aspetta 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 che non gli faccio niente eh sta trasformando di nuovo io sto pieno dalle munizioni eh oh no che non ci credo non ci credo fallocole oh sì che bello oh no c'è uno zombie ah no non c'è uno zombie il simon sembra uno zombie e sopravvivere allora supplicami supplicami no grazie non puoi avere sempre tutto simon no 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 ma si non è morta neanche per quel ma forse sì forse chi sei tu perché ci aiuti vorrei restare ancora ma devo scappare ti ho lasciato un regalino sul tetto ci vediamo più avanti Leon l'elicottero l'elicottero vado beh che cosa stai in seguida no restiamo uniti beh credo che mi abbia lasciato per forza l'elicottero a meno che non mi abbia lasciato foto di lei in intimo eh infatti c'è un elicottero l'elicottero è il biglietto per andarcene se lo raggiungiamo se eh c'è con la merda è ancora viva io ci credo la vedo più incazzata non molla mai il colpo vero? è ora di finirla si infatti ha rotto il coglione ora avrai quello che meriti Simons no oddio cerchiamo di rimediare sputta un attimo guarda quante gradate ho toh aah brucio merdaccia se lo mangia no? ora vai intanto li uccide in un secondo tipo aspetta c'è una cassa laggiù lo pensavamo anche prima eh infatti meglio non farci illusioni ricarico anche le armi non sa mai il peso è pronto questa scarica questa eh fucile a pompa proprio devo usare due munizioni di tutto aspetta 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 ok ok oh no raggiungiamo l'eliporto si dammi un attimo in fretta possibile ok vai all'eliporto si ma qualcosa mi dice che tanto anche se lo raggiungiamo dobbiamo ammazzare prima lui non credo che lasciamo la questione in sospesa oh oh cacchio aspetta questa è la pistola più potente devo tenermela a discorta dai sbrigati tira mi su partete quella cosa oh sto bene tirami fuori da qui capito c'è una mosca gigante ma cosa quando cazzo è uscita mi piace il gioco duro eh ok non so come ma funziona ci penso io a te eh ci provole dai 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 oh no vola 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 la pe maia sta merda Elena che succede ma stai già non ti schiavo io no 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 colpite dai questo per fine le munizioni dannazione è caduta anche ma le mosche volano sicuramente quella mosca è arrivata attirata dall'odore di merda di Pinoluno eh 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 dai 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 da molto che non lo insultavo Pinoluno apprezzerà allora no c'è una munizione lì che cacchio è questo? rosso qui ho sempre bisogno del suo aiuto eh ma com'è cacchio io faccio raggiungere quel punto? non va bene dobbiamo raggiungere l'elicottero lo credo anch'io lo credo anch'io ma questa cosa si non gli faccio niente però sembra da ma c'è lo zombie che sale alle scale sinceramente li ho visti tutti gli zombie non sanno salire scale nooo ancora una mosca gigante non sanno più cosa inventarsi ormai bene portiamo giù quello strozzo piche vola non faremo nulla con quelle di parte non lascerannoci oh ma che cazzo non si alza non ce l'ho sottotiro ma che cos'è questo? puttana tua nonna nooo dai fatti mangiucchiare ma porca troia eh figurati oh occhio occhio sta ballando dai 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 eew aah nooo pesima idea beccato beccato ma se eh infatti vado a queste cose luminose ti piace vero merda oh oh assacca aah ah 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 stai sul cazzo anche addio ti sto fulminando un para fulmino se lo assorbe prenderà la scossa aspetta che cazzo devo fare con questo ah devo colpire gli zombie assorbi questa merda Eh, è sorbito il figlio di trota Beccato È incazzatissimo Oh, merda Oh Oh, no Devo colpirlo di nuovo Lo colpisco fino a che non Non diventano marroni i suoi tentacoli Cioè, marroni queste palle di merda Mi chiamano il ventre Adesso lo assorbe Vai Ha 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 Oh, pezzente Ah, devo portarlo via Amore Merda, finte colpi È difficile beccarlo col mitra No, le ho finite Però aspetta Eh, ho questo Che fai? Oh, sì Ciucciatela tutta Ancora Ne vuole ancora Vuole fare il bis Ora, mira la testa Ora, mira la testa Cazzo Spazza 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 Io lo ficco C'era un altro zombie Non devo? Tipo, ha rotto le balle Adesso Hai ragione Stiamo sprecando tempo Quindi La brillante soluzione La brillante soluzione Qual è? Eh, dici Beccato Beccato Dai Ciucciati quello No, 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 no Ancora È cosa il parafulmine? Oh, sì L'ha preso Si dà il colpo di grazia Praticamente Oh Sei un genio Si è dato da solo Il colpo di grazia Andiamo, 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 andiamo Festaceremo dopo All'elicottero Il pavimento è instabile Dai Dai che lì l'elicottero Guido io Guido io Piloto io Oh, c'è un lanciamissili Eh Lo sapevo Lo sapevo Non mollavo Porca troia Ve l'avevo detto Poi che Dovevamo usare Il lanciamissili Per farlo fuori Del tutto Me lo immaginavo E il lanciamissili È proprio L'ultima parola Con i boss Ha 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 Ho ho Finalmente Figa Fai il segno Dall'ombrella Il sangue Colore alle parti di rosso Questo è per mia sorella Forza Andiamo L'elicottero Sali sull'elicottero Andiamocene da qui Stavolta è morto davvero Moone esce la sorella Dall'elicottero Ci ammazza Che cacchio è Che cacchio è Leon Questa è La prova dei crimini Di Simons E la prova Della tua innocenza La nostra innocenza Non ne ho bisogno Elena Buone notizie Leon Sappiamo come sconfiggere Il virus Ricevuto Stiamo tornando A dopo Andiamo Stiamo tornando Ok Allora Che dire Questa prima campagna Mi è piaciuta Abbastanza Però Ricordatevi che ce ne sono Altre Tre da completare Quella di Chris Quella di Jack E quella di Ada Non so se ce ne sono altre Ma credo che siano solo queste Altre tre Quindi non scappate Perché iniziamo subito Le prossime campagne Uh Aspettateci un filmato dopo Fortunatamente Ho saltato Riconoscimenti finali Per vedere Se c'era qualcosa È ora che mi assuma Le mie responsabilità Grazie Sono pronta Sono pronta Cosa? Ma Ho collaborato Nell'attacco La commissione d'inchiesta Ha rivalutato le prove E trova ingiusto Ritenerti responsabile Del crimine di Simmons Inoltre Non renderanno pubblico Tutto quello Che hanno scoperto Ma Il presidente avrebbe fatto Lo stesso Bene Ci uniamo alla squadra? Leon Per la prossima volta Che la vedrai Donne Donne Ok ragazzi Per concludere La ragazza Che avrebbe il pompone Alla giraffa Donne Volca Troi Però Votto A Ora sono disponibili 8 o 9 abilità Pestrano il riconoscimento Termino partita Dove posso vedere l'abilità? No Ok Quindi proseguiamo Con la campagna Di Chris Sì Dovevamo proseguire Con la campagna di Chris Ciao a tutti Ciao a tutti